eccoci allora riaccogliamo intanto lorenzo fronti qui con noi siamo sempre nella fase introduttiva di questi video dedicati alla concinitas di alberto colla e siamo arrivati a parlare di roberto lupi il compositore roberto lupi io direi se siete d'accordo prima di addentrarci nelle questioni più tecniche di parlare dell'armonia di gravitazione di magari dare due riferimenti biografici a chi ci ascolta quindi allora roberto lupi compositore direttore d'orchestra italiano nato a milano fu allievo di pedrollo al conservatorio di milano dove conseguì i diplomi in pianoforte violoncello e composizione nel 1937 vinse la prima rassegna per direttore d'orchestra nel 50 il prix de rome con la cantata orfeus dal 41 ottenne la cattedra di composizione al conservatorio cherubini di firenze nel 44 fu per breve tempo direttore artistico dell'accademia di santa cecina in roma diresse le principali orchestre sinfoniche italiane ed alcune straniere nonché la prima esecuzione in italia della quinta sinfonia di bruckner detto questo lascerei a voi appunto la parola per addentrarsi nelle questioni più che ci competono va bene allora comincio a dare qualche così menzioni innanzitutto il personaggio era davvero curioso perché era un seguace di rudolf steiner e quindi la teosofia era proprio il suo pane quotidiano aspirava a una sorta di nascita di un'arte nuova portatrice di contenuti estremamente elevati che fossero in qualche modo diretta conseguenza di un'elevata coscienza spirituale e cosmica e niente lo ricordiamo a livello così proprio chiunque lo conosce semmai senza sapere diciamo attraverso la sigla di chiusura delle trasmissioni rai che andava in onda negli anni 50 quella beh fu composta da da lupi ovviamente a noi interessa parlare dell'armonia di gravitazione che è un trattato del 1946 di lupi però comunque così facciamo vedere un attimo anche per esempio questo breve brano di lupi che si chiamava saturno grazie a tutti adesso passiamo a vedere un attimo l'aspetto teorico di lupi e quindi passiamo all'armonia di gravitazione e qui abbiamo alcune schede questa è la copertina dell'armonia di gravitazione edita da De Santis che era il suo editore 1946 poi mi risulta anche che tutte le sue composizioni siano fatte da questo editore che risulta a me risulta fallito non risulta più in commercio infatti ho gli studi per pianoforte che però sono difficilissimi da trovare adesso allora qui dice Alfredo Casella scrisse la prefazione di questo trattato e ci dice il vecchio mondo sociale crolla e l'umanità cerca affannosamente di costruire un ordine da sostituire a quello scomparso con questa gigantesca crisi ha un preciso riflesso anche nell'arte e soprattutto nella musica dove l'evoluzione dell'ultimo mezzo secolo ha determinato poco a poco il crollo di quel sistema armonico che aveva sorretto la nostra arte per quattro secoli e che oggi appare irrivedibilmente superato le vecchie leggi sono praticamente scomparse e faticosamente se ne elaborano delle altre come ad esempio la dodecafonia nel presente caos ogni parola di buonsenso che abbia per il scopo di contribuire chiarificando le idee e porre ordine in una situazione eminentemente confusa sarà la benvenuta e pertanto non si può negare ogni simpatia ed il dovuto alto interesse alla nuova teoria esposta da Roberto Lupi in questo opuscolo che rappresenta unitamente ai lavori teorici di Paul Indemith uno fra i pochissimi contributi attuali veramente validi all'edificazione di quel ponte che noi tutti cerchiamo di gettare sull'abisso che separa la musica di ieri da quella di domani auguro dunque a questa fatica di Lupi degna della sua rara intelligenza e della sua vasta cultura tutto il successo che merita Roma a settembre 1946 Alfredo Casella questa è la prefazione effettivamente ancora attuale eh sì insomma stiamo ancora cercando di fare questo ponte maledetto tra l'antico e il futuro mentre c'è ancora una certa diciamo nicchia di compositori che vorrebbe ancora mantenere una separazione netta mentre si tratta di capire quelle che sono le origini della musica degli armonici facendo delle riflessioni che ci portino poi a vedere tutta la musica sotto un punto di vista unico e non semplicemente che col novecento abbiamo rotto col passato e facciamo cose nuove perché poi alla fine vedremo non è così ok la prima riga cosa sono le armoniche di do che Lupi prende sono fino al nono armonico a lui basta quello per quello che è il suo scopo cosa fa vuole cercare una sorta di logico passaggio tra l'alone di do e gli altri aloni di re bemolle re mi bemolle mi fa eccetera quale può essere un ordine logico sensato graduale che ci porti da un'armonia da una serie armonica ad un'altra allora svincolandosi dalle leggi di tipo tonale che comunque hanno un criterio perché c'è per esempio l'aumento graduale di diesis o di bemolli fa qualcosa di analogo andando a cercare la nota do sempre ponendo che in questo caso do è la nostra casa è la nostra tonalità di base solo che invece che do maggiore parliamo di alone di do andiamo a cercare il do nelle altre serie armoniche e lui scopre questa affinità molto interessante tra le note do fa la bemolle re si bemolle perché nella serie di fa il do si trova in terza posizione come terzo armonico in la bemolle qua vediamo si trova come quinto armonico nella serie di re si trova come settimo armonico nella serie di si bemolle si trova come nono armonico e qui vediamo praticamente le note cerchiate vediamo come questo do progressivamente si allontana la fondamentale eh sì cioè la nostra fondamentale si allontana poco alla volta quindi è ovvio che il fa avrà una certa parentela proprio perché con il do proprio perché il do è ancora vicino è ancora nelle armoniche basse e via via questa parentela si insomma si riduce fino ad arrivare a questo si bemolle secondo lupi il si bemolle la serie di si bemolle è quella che più di tutte avrebbe necessità di ritornare a risolvere sulla serie di do poiché essa contiene come note si bemolle fa re la bemolle do contiene le stesse fondamentali di gravitazione che abbiamo visto adesso quindi do fa la bemolle re si bemolle in altro ordine si bemolle fa re la bemolle do allora lui dice questo è testimonianza della forte parentela di questo si bemolle che deve assolutamente risolvere e tornare a do e però questo è un primo piccolo difetto della teoria piccola aporia perché in realtà poi si tratta di intonazioni differenti di queste note quindi lui diceva perché se si moltiplicano si contano tutti i do presenti in si bemolle come armonici di armonici i do sono tanti però sono tutti diversi infatti qua noi riportiamo anche per chiarezza anche le varie deviazioni incente che sono qui riportate sopra le armoniche infatti vediamo qui in alto che i do sono tutti diversi si veda bene qua più 2 il sol è più 200 il mi è meno 14 di nuovo più 2 meno 31 più 4 quindi i do se noi li andiamo a guardare un do è 0 cent l'altro è più 2 l'altro è meno 14 l'altro è meno 31 e l'altro è più 4 effettivamente si tratta microtonalmente parlando di note differenti l'upi però non considera questo aspetto ma noi dobbiamo comunque dire che per fortuna sua anche forse se non se ne è accorto la pentiade questa che è praticamente l'accordo di nona di dominante do mi sol si bemolle re è un accordo simmetrico quindi tutto sommato a quello che gli regge questo sistema bisogna ah sì sì infatti nel temperamento funziona funziona benissimo comunque ha la sua diciamo logica e quindi lui dice questo è la nostra questo do è come una specie di sole attorno al quale gravitano dei pianeti quali sono? sono il pianeta di fa il pianeta di la bemolle il pianeta di re il pianeta di si bemolle un piccolo sistema gravitazionale che poi lui espande ancora di più in maniera frattale quindi se noi immaginiamo questo tipo di procedura qua a t square dove si vede proprio la gradualità da questo quadrato noi andiamo ad aggiungere dei quadratini sui lati e poi su ognuno di questi quadratini andiamo ad aggiungere dei quadratini sui lati e poi ancora eccetera eccetera vediamo questo tipo di ci sono anche quelli che fanno i crop circle nei cerchi di grano che fanno queste cose qua per far sembrare che sono gli alieni che fanno queste cose qua comunque la struttura frattale è tipica del sistema di lupi perché adesso andiamo a vedere quello che lui fa praticamente fa questo allora le note grandi qua do fa che abbiamo visto la bemolle re e si bemolle sono queste qua i pallini un po' più grossi sono quelle che abbiamo visto prima ma attorno a ognuna di queste se andiamo a guardare bene questo è lo stesso sistema eh sì abbiamo degli altri pianetini satelliti li possiamo chiamare che girano attorno il re c'ha i suoi che qua in che rapporto stanno? lo stesso rapporto primo di gravitazione secondo di gravitazione terzo di gravitazione quarto di gravitazione quindi siamo lì re sol si bemolle mi e do è la stessa identica cosa poi qua si irradiano le armoniche di do quindi il do mi sol si bemolle e re che vediamo adesso hanno anche loro una importanza nel sistema di lupi perché lui adesso si mette a parlare di armoniche di inversione che sono praticamente sarebbe questo discorso qua parte dalle note che sono le armoniche di do do sol mi si bemolle e re e fa le armoniche di inversione qui tra parentesi ovviamente i cent che lui non considera ma che sarebbero specchiati al contrario il più due diventa meno due il più quattordici il meno quattordici della terza naturale diventa più quattordici e naturalmente dobbiamo dirlo chiaramente che in natura le armoniche inverse non esistono quindi questo tipo di analisi che fa lupi è di tipo speculativo teorico ed è a questo punto di vista assolutamente interessante però nella natura non esistono le armoniche inverse a questo punto in questa teoria lui dice prendiamo si rende conto che le armoniche inverse generano anche loro accordi che sono gli stessi delle serie per così dire dritte insomma originali perché qua vediamo che cosa succede da un do inverso otteniamo una serie di si bemolle sono le note di una nona di si bemolle si bemolle re fa la bemolle do in mezzo le altre bianche non sono che ripetizioni di queste qui per esempio da sol otteniamo le note di fa fa la do mi bemolle sol da quelle di mi una serie di re da quelle di si bemolle inverso otteniamo un la bemolle in nona la bemolle do mi bemolle sol bemolle si bemolle e da re otteniamo do e se andiamo a confrontarle cambiamo soltanto i nomi praticamente diremo queste sono le lui le chiama pentiadi sono praticamente le pentiadi delle delle fondamentali digerritazioni che abbiamo visto prima e queste sono le armoniche di inversione subarmoniche che chiameremo solo con nome diverso quinto di inversione secondo di inversione quarto di inversione terzo di inversione primo di inversione ma che sostanzialmente vedete che sono gli stessi identici accordi non cambia assolutamente niente chiaramente ritornando a un discorso di armoniche non è affatto la stessa cosa ovvio perché le armoniche inverse presentano anche tutt'altro ordine non è l'ordine sarebbe poi questo con le note qua compresse con questi microtoni che le renderebbero direi abbastanza inascoltabili abbastanza sgradevoli quindi non è affatto la stessa cosa però comunque sta di fatto che Lupi fa questo ragionamento e poi alla fine dice perché non unire le note che sono le fondamentali di gravitazione quindi do fa la bemolle re si bemolle a quelle che sono le note praticamente lui fa una sovrapposizione delle fondamentali di gravitazione e delle fondamentali inverse di gravitazione che poi corrispondono comunque alle note della serie dritta della serie sì 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 le armoniche di do le armoniche di sostanzialmente le armoniche di do e le fondamentali di gravitazione le unisce e fa questa roba che chiama scala bimodale appunto nata dalla sovrapposizione delle fondamentali di gravitazione e delle fondamentali inverse di gravitazione chiaramente lui quando parla di inverso parla della nota alta come fondamentale quindi è ovvio che è per quello che dicevo che quelle note corrispondono alla serie di do dell'armonica di do quindi otteniamo do re mi fa sol la bemolle si bemolle che per il suo carattere maggiore e minore lui chiama scala bimodale poi traspone ciascuna scala sul grado su ogni grado di questa scala bimodale qui la vediamo sottolineata do re mi fa sol la bemolle si bemolle e su di esse traspone un po' la maniera del quadrato magico traspone la scala bimodale e poi prende tutte queste note insieme e praticamente dice adesso dalla somma di tutte le note costitutive le scale bimodali dell'atmosfera di do lupi genera la scala pente decafonica di quindicissimo suoni do re bemolle re mi fa bemolle fa fa dies sol bemolle sol sol dies la bemolle la si bemolle si eccetera eccetera che lui poi utilizzava a livello melodico mentre le armonie le manteneva entro gli ambiti di quello che abbiamo visto quindi di un discorso di più di pentia di quindi di accordi di nona di dominante e mentre la melodia si concedeva evidentemente ogni tipo di cromatismo e detto questo diventa abbastanza difficile poi anche solo analizzare i lavori di lupi che utilizzano questo tipo di tecnica perché appunto le premesse sono molto interessanti dopodiché prende una direzione un po' discutibile e soprattutto quando parla con le armoniche di inversione e poi dopo sta scala bimodale la scala pente decafonica ecco qua forse sono le parti un pochino mi permetto di dire magari meno brillanti del sistema che potrebbero sì mi ricordo scusa se ti interrompo mi ricordo di averne parlato proprio espressamente con Alberto Colla della scala bimodale che comunque è una scala simmetrica quindi di per sé interessante nel jazz per esempio si potrebbe definire misolidia bemolle 6 o bemolle 13 insomma e voi avete questo linguaggio eh sì e mi ricordo proprio di averne parlato chiedendogli perché può sembrare una scala di approssimazione al temperamento equabile della serie armonica però c'è questo problema della quarta che non è la quarta insomma l'undicesima eccedente e mi ricordo che mi disse proprio che era uno dei perché quella dovrebbe essere quella dovrebbe essere fa diesis oppure fa fa è lì sì è un'approssimazione certo infatti fa diesis è in mezzo l'undicesimo armonico è in mezzo esatto però per un cento è più vicino al fa diesis e quindi effettivamente quella che che Colla chiama scala maggiore acustica avrebbe il fa diesis e quindi c'era anche questa piccola contraddizione di parlare di armoniche però puoi temperarle e quindi incorrere in queste piccole contraddizioni ecco comunque la scala di per sé è interessante anche da utilizzare nella concinità ma magari ne parleremo più avanti grazie grazie